Il quarto trimestre del 2018 ha confermato un trend che i primi tre quadrimestri avevano in qualche modo evidenziato che è un legame sempre più forte dei consumi della birra con un po' lo stile di vita che oggi c'è in Italia, registrando aumenti di consumo del 9% a ottobre piuttosto che novembre un più 4%, un più 6%. Normalmente i mesi invernali, i mesi più freddi sono un po' ostici alla birra, nel senso che il 55% della birra viene consumata nei mesi estivi, questo dato invece sta un po' dicendo che i consumi della birra in Italia stanno cambiando verso un consumo invece un po' più costante. Questo è dovuto soprattutto all'innovazione che oggi il mondo della birra sta mostrando, un'innovazione che parte dal al riscoprire vecchi stili di birra.